Buongiorno a tutti, sono Francesco Pipitone e per la Scuola di Arti Applicate del Castello Sforzesco di Milano insegno pittura ad olio. Oggi voglio mostrarvi come illuminare correttamente un'immagine qualunque del nostro quadro. Per illuminare un oggetto del genere, in questo caso questa mela rossa, non dovremo scegliere del bianco che in questo caso sbiadirebbe i nostri toni. Dovremmo scegliere dei toni gialli o arancioni, in modo tale da fare illuminare questi rossi qui. Ed ecco qui che la nostra mela sarà più correttamente illuminata. Se vi è venuta voglia di approfondire questi temi, questi concetti, beh, allora seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram. Io vi aspetto e alla prossima. Ciao ciao! Ciao!